Salve a tutti da Walshaw e oggi vi farò vedere come riutilizzare un sacchetto gelo questo molti di voi lo chiudono così o ci fanno un nuoto e oggi vi farò vedere come riutilizzare questo sacchetto usando solo una bottiglia eccola qui per prima cosa tagliamo questo pezzo qui il collo diciamo ok scusate prendiamo un taglierino è un'idea molto stupida però volevo farci un video non si sa mai ok dopo averlo tagliato di certo lo rifinirete bene comunque apriamo il tappo questo qua è il nostro sacchetto vogliamo metterci non lo so un sacchetto messo di fazzoletti facciamo qui il nodo diciamo lo facciamo passare qui dentro e lo apriamo così ok ed ora mettiamo il tappo e chiudiamo ok e su qua è il nostro sacchetto riutilizzato senza romperlo lo possiamo aprire estrarre estrarre il collo della bottiglia e riprendere la nostra roba e viceversa comunque commentate votate iscrivetevi al canale ditemi se vi piace l'idea e mettete mi piace alla pagina facebook ciao a tutti ciao a tutti